Nei giorni sabato 2 e domenica 3 ottobre, il Museo Paleontologico di Montevarchi ospiterà la nuova edizione del Paleo Fest, Festival della Preistoria. Quest'anno il festival, nel rispetto di tutte le norme per la sicurezza sanitaria, si svolgerà però in presenza, anche con la possibilità di trasmissione in streaming online, a partire dagli spazi del Museo Paleontologico, il Chiostro di San Motovico e poi diverse realtà di Montevarchi e non solo. Come negli altri anni, il festival conoscerà in parallelo diverse offerte per approfondire e conoscere il mondo della preistoria, offerte scientifiche, artistiche, didattiche. La sala grande dell'Accademia del Poggio ospiterà la serie degli incontri, a partire da sabato mattina, con una conferenza di Marco Rustioni, conservatore scientifico del Museo, sull'alimentazione della preistoria, per proseguire nel pomeriggio del sabato con l'incontro con quello che probabilmente è il maggiore studioso italiano di paleoantropologia, Giorgio Manzi, uno studioso di fama internazionale, che parlerà dei nostri Neandertal. E ancora il tema della presenza delle comunità umane, in particolare nel territorio valdarnese della preistoria, sarà al centro dell'incontro di domenica pomeriggio con uno staff di studiosi dell'Università di Firenze, che hanno lavorato a ricerche sulla presenza umana nella preistoria, a partire da un sito nei pressi di Levane. Accanto agli incontri si svolgeranno le esperienze. Le esperienze conoscono diverse offerte, innanzitutto laboratoriali di visita guidata al museo e soprattutto un'area educativa, uno spazio che sarà dedicato nel pomeriggio di domenica 3 ai più piccoli, in particolare ad esperienze educative e ludiche, nel chiostro di Sallo d'Ovico, che diventerà centro di un'offerta didattica proprio per i bambini, per le famiglie. Di nuovo il chiostro sarà poi, negli spazi laterali sotto le volte, il cuore di un'iniziativa nuovissima di quest'anno, ovvero il primo premio nazionale di paleoarte. L'Accademia del Poggio e il Museo Paleontologico hanno lanciato l'idea di raccogliere opere d'arte dedicate al tema della preistoria, di arte essenzialmente grafica. La risposta è stata straordinaria. Oltre 70 artisti italiani e stranieri hanno risposto inviando le proprie opere. Queste opere di grafica, oltre 100, saranno tutte esposte sotto le volte del chiostro. E nella giornata del pomeriggio di domenica avverrà la premiazione. Una giuria internazionale, anche in questo caso, sta valutando le opere, verranno premiate le più interessanti. Quindi si tratterà di uno spazio, quello del chiostro, animatissimo dal tema della preistoria in chiave educativa, in chiave ludica e in chiave artistica. Ma anche al di fuori del chiostro si svolgerà il festival, in particolare nello spazio di Via Poggio Bracciolini. Una serie di musei, specialmente della Toscana, e di realtà scientifiche espositive che hanno a che fare con la preistoria, avranno spazi dedicati con stand attraverso i quali potranno far conoscere le loro esperienze, le loro peculiarità espositive e il loro patrimonio. Quindi lo spazio del museo si apre alle vie cittadine e non solo a quelle, perché anche altri spazi saranno parte dell'offerta la mattina del sabato, una iniziativa intitolata Dino Storie si terrà presso la Fabbrica della Conoscenza alla Ginestra e sia la mattina del sabato che la mattina della domenica saranno organizzate escursioni, l'una a Cabriglia, nel territorio dell'ex area mineraria di Castelnuovo dei Sabbioni, l'altra a Castelfranco di sopra, per conoscere attraverso guide ambientali e guide degli ambienti specifici la realtà geologica, paesaggistica di quelle parti di Valdarno che hanno dato un contributo più decisivo al patrimonio fossile. Quindi si tratta di un'esperienza, di un'offerta che inizia dal museo con le sue peculiarità di collezione e di ricerca scientifica per allargarsi alla città e al territorio. Quindi il festival sarà davvero un momento in cui la conoscenza della preistoria si offre a tutta la società, una conoscenza di un periodo, di una stagione della storia della terra e delle comunità umane tanto lontana nel tempo quanto vicina per interesse, rilevanza per la nostra realtà. Tanti temi, basti pensare a quello del clima, a quello del rapporto delle comunità umane con le altre specie, a quello della trasmissione della conoscenza, a quello del rapporto tra natura e cultura, si intrecciano intorno alla grande questione della preistoria. Quindi il Paleo Fest sarà anche una grande occasione per riflettere e capire, magari giocando, magari incontrandosi, magari ascoltando gli esperti o ammirando il lavoro straordinario degli artisti, una realtà che è rilevante per il nostro tempo. Tutte le iniziative del Paleo Fest sono su prenotazione, si può contattare paleofest-accademiadelpoggio.it per tutte le informazioni, anche per le modalità di accesso, i tempi e il programma. Benvenuti al Paleo Fest, a presto! Grazie! Grazie! Grazie!